Durante il papato di Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, uno dei concetti centrali della dottrina sociale della Chiesa, cioè di quel complesso di studi e dichiarazioni che definiscono i valori fondamentali cui deve ispirarsi la posizione del cristiano, era il concetto di diritti non negoziabili, cioè di alcune cose talmente fondamentali o una specie di nucleo duro anche dei diritti umani che non può essere in nessun modo messo in discussione per nessun motivo. Il successivo papato di Francesco, questo concetto è stato un po' meno messo al centro. Si tratta però di un concetto fondamentale non soltanto nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ma ancora di più in una questione molto più importante che è quella dei rapporti tra le varie culture e religioni. In un mondo in cui la popolazione rivendica sempre di più la libertà di circolazione in tutto il mondo dove le distanze tra i popoli e le persone si sono ridotte di molto e di fondamentale importanza, riuscire a costruire un nuovo diritto comune che permetta di gestire i conflitti che inevitabilmente e sempre sorgono tra gli uomini, tra i popoli, tra le nazioni. È un lavoro che ogni tanto nella storia dell'umanità deve essere rifatto, solitamente di fronte a mutamenti anche tecnologici importanti che avvicinano di più i popoli regenti e che in questa fase è fondamentale come ci ha mostrato per esempio tutto quanto accaduto dopo l'11 settembre dove il rischio di un confronto tra culture, tra religioni, tra civiltà come qualcuno l'ha chiamato in sostituzione di precedenti conflitti come per esempio quello tra il comunismo e il liberalismo che ha caratterizzato tutto il ventesimo secolo e è diventato evidente per tutti. Ecco, in questo contesto dove, anche se se ne parla poco, c'è gente che ci lavora, ci sono studiosi, i gruppi di interessi che qua e là nel mondo tentano di discutere, di studiare, di fare delle proposte e anche il Ticino gioca un ruolo importante in questo contesto perché l'Istituto di Diritto Comparato delle Religioni della Facoltà di Teologia è in prima fila in questo tipo di lavoro. Ecco, in questo tipo di dibattito il concetto di valori non negoziabili, cioè di quei diritti che ognuno non può accettare di mettere in discussione è fondamentale, è su questo che alla fine avverrà la discussione, avverrà lo sconto ed è su questo che alla fine bisognerà trovare un accordo. Ecco, in questo contesto è interessante notare anche gli sforzi che sta facendo l'Islam. È spesso accusato, a torto e a ragione di varie questioni, ma anche al suo interno ci sono dei tentativi di affrontare questi problemi. Per esempio, non è molto noto al grande pubblico che esistono alcune dichiarazioni universali islamiche dei diritti umani, ce n'è in particolare una rilasciata a Parigi nel 1981 e poi un'altra rilasciata al Cairo nel 1990 che cercano di definire i diritti fondamentali dal punto di vista dell'Islam e il gioco forza a constatare come questo punto di vista presenti differenze anche importanti per rapporto alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per non parlare della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e a questi testi che sono fondamentali per tutto l'Occidente. Evidentemente i temi sono quelli che ci si può immaginare, i temi di maggior conflitto, in particolare il problema della parità di uomini e donne, assolutamente non negoziabile, mentre che l'Islam ha una posizione quantomeno più articolata. Occorre trovare delle soluzioni, è fondamentale anche per risolvere il problema delle migrazioni che proprio come tema pongono e arrivano a questo tema fondamentale, cioè i migranti o con i migranti evidentemente queste cose diventano più urgenti, più concrete, più toccabili con mano da parte di tutti e quindi è importante sottolineare che c'è gente che nonostante tutto sta cercando di lavorare per trovare delle soluzioni.